Si chiama Comitato per il Patrimonio Termale di Sciacca, l'organismo costituito ieri sera da associazioni e movimenti. Pochi cittadini presenti, ulteriore dimostrazione dell'incomprensibile distacco della città verso le terne. Ieri pomeriggio a Ribere, funerali di Gaetano Lacorte, l'anziano ucciso lunedì scorso all'interno della comunità alloggio dove viveva. Il legale di Salvatore Italiano accusato dell'omicidio invoca l'infermità mentale. Politica è iniziata anche a Sciacca la rincorsa per approdare per primi in Italia Viva il nuovo soggetto politico voluto da Renzi. Non ha perso tempo Nuccio Cusumano, ma tra i sindaci in carica sarebbe pronto ad aderire anche Carmelo Pace. S.P.A. o azienda speciale consortile, lati di Agrigento, venerdì prossimo dovrà decidere il modello societario del servizio idrico integrato. A Sciacca la scelta sarà condivisa, questa la posizione nelle ultime ore del sindaco Francesco Valenti. Giornate europee del patrimonio anche a Sciacca. Domani e domenica iniziative all'atrio superiore del palazzo municipale, con contestuale apertura del fondo antico della biblioteca. Altre iniziative promosse dal club UNESCO. Sport tutto pronto presso i campetti di tennis della Perriera, che ospiteranno il torneo di beach tennis assoluti di quarta categoria. A Sciacca arriveranno i migliori atleti della specialità. A fare gli onori di casa alla società Passione Tennis. Ben trovati anche oggi al nostro telegiornale. Si chiama Comitato per il patrimonio termale di Sciacca, l'organismo che si è costituito ieri sera nei locali della CGL. Ne fanno parte associazioni, movimenti, organizzazioni, comitati di quartiere. Pochi i cittadini presenti alla prima riunione. Ed è proprio sull'indifferenza che la città continua a mostrare che ha puntato Pietro Mistretta dell'altra Sciacca, definendola incomprensibile. Per l'avvocato Ignazio Cucchiara del Comitato Civico per la Sanità, occorre creare lo scandalo rispetto ai ritardi che continuano a caratterizzare la vicenda. Il primo dei nostri servizi. Associazioni, movimenti, comitati di quartiere, scout, circoli culturali e comitati civici già esistenti hanno costituito ieri sera il Comitato per il patrimonio termale di Sciacca. Mondo dell'associazionismo che mostra dunque ancora una volta un grande interesse ed una grande sensibilità rispetto ad una problematica, quella termale, che resta ancora inspiegabilmente bloccata. A differenza invece della città e dei cittadini, pochi quelli presenti ieri alla prima riunione del Comitato, che viceversa continuano a mostrare indifferenza. Ma la nascita di un ulteriore organismo che intende spendersi per la tutela, salvaguardia e valorizzazione di una delle più importanti risorse della città è anche la dimostrazione dell'inerzia delle istituzioni. Per Pietro Mistretta dell'altra Sciacca, tra i promotori della nascita del Comitato, è una vicenda che grida vendetta. Nel momento in cui l'istituzione o chi dovrebbe prendere dei provvedimenti non riesce ad andare avanti e quindi a risolvere la problematica, è chiaro che i cittadini questa volta dovrebbero essere parte attiva affinché si raggiunga quell'obiettivo. Ora noi cosa abbiamo riscontrato? Tutta una serie di promesse, di fatti non mai conclusi, di aspirazione da parte del Governo regionale, ma anche di tutti quelli che si sono succeduti, ma concretamente noi siamo al punto partente che siamo al 19 settembre e ancora questo benedetto bando, questa risoluzione che dovrebbe dare un input alla risoluzione finale, non c'è. Aggiungo che se le notizie che arrivano dalla regione circa Cireale possono così compiacere per una risoluzione anche da parte degli Acesi, è chiaro che noi pretendiamo che ci sia un intervento anche per Sciacca, un intervento che sia però risolutivo, che dia veramente delle risposte e che finalmente dia questa indicazione precisa è di trasparenza. Noi come comitato che tentiamo di muovere le coscienze, perché tu sai che c'è stato sempre da parte della città di Sciacca una certa indifferenza, per me incomprensibile, però c'è stata, oggi cerchiamo con tutte le associazioni monetate, ma anche i cittadini, chiunque voglia partecipare, a cercare di far sentire la propria voce, far sentire che questo delle terme, grida vendetta, è una cosa che non si può tollerare. Per l'avvocato Ignazio Cucchiara del Comitato Civico per la Sanità occorre alzare il livello di informazione rispetto ad una vicenda a dir poco scandalosa. La regione, ma non solo la regione, si muove sulla base di un calentario di emergenze, cioè interviene in maniera non sempre congrua rispetto alle emergenze. Evidentemente il problema delle terme non è tale e allora bisogna creare l'emergenza. Come? A mio avviso alzando il livello di informazione, andando oltre i limiti nostri della stessa regione. Cioè noi siamo pronti a creare lo scandalo. Non è assolutamente possibile che dopo quattro anni non si riesca, nonostante le dichiarazioni di disponibilità piena, ad affrontare un problema del genere. Cioè non si risolvono in quattro anni le cose che si risolvono in quattro giorni. E allora ecco, io condivido questa iniziativa e sono qua e spero che lo facciano tante altre cittadine. Bisogna assolutamente puntare i piedi a terra superando la logica delle richieste formali, delle riunioni che non portano a nulla, non sortiscono a nessun effetto. La nostra democrazia purtroppo necessita di questo intervento diretto in termini di partecipazione da parte del cittadino. Nulla contro il governo regionale ma noi le termine le vogliamo aperte. Che senso ha aspettare una norma che prevede, sembrerebbe un assurdo dal punto di vista giuridico, ci potrebbe essere la spiegazione, che prevede l'acquisto da parte della regione del patrimonio delle società. Cioè, la società di Sciacca e di Ecireale sono due società con un solo azionista, che è la regione. La regione compra le cose che sono già sue e per questo si perde, si perdono la legge del 2016. Siamo arrivati alla fine del 2019 e passeranno chissà quanti altri anni. È assolutamente necessario dire, signore, così non si va più avanti. Uno degli obiettivi del neonato comitato per il patrimonio termale è dunque quello di aumentare l'interesse e il coinvolgimento degli cittadini. Comitato che attende di capire se entro settembre arriverà davvero l'annunciata pubblicazione del bando da parte della regione. In caso contrario si passerà ad una grande mobilitazione. Vediamo quest'altro servizio. Nelle prossime riunioni il neonato comitato per il patrimonio termale di Sciacca individuerà un proprio coordinamento di cui faranno parte i rappresentanti delle varie associazioni e movimenti che si sono fatti promotori della costituzione dell'organismo. Ad assumere il ruolo di coordinatore sarà verosimilmente Franco Zammuto, comitato che aspetta di capire se entro settembre arriverà davvero l'annunciata pubblicazione del bando da parte della regione. Se ciò non dovesse avvenire il nuovo organismo si dice pronto ad una grande mobilitazione. Abbiamo un patrimonio immobiliare, un patrimonio termale complessivo di grande rilevanza e di grande importanza. Da cinque anni innaffitalina e nessuno se ne occupa. Da cinque anni aspettiamo speranzosi che qualcosa cambi, che qualcosa finalmente venga fuori ma questa speranza sembra che rimanga una semplice speranza. Peraltro ci sono continuamente in maniera intermittente tante notizie che però non garantiscono nulla. Noi siamo in attesa per esempio nel mese di settembre di questo famoso bando manifestazione di interesse che debba essere. Noi attendiamo risposte entro questo mese, dopodiché penso che sarà necessaria una grande e importante mobilitazione della città e questo lo faremo creando un coordinamento ampio, molto ampio, fatto di tutti i responsabili o i coordinatori delle varie associazioni, dei vari comitati esistenti a Sciacca, oltre chiaramente tutti i livelli di intermedi sociali, quali le organizzazioni sindacali, per fare in modo di avere veramente una grande disponibilità di gente che comincia ad avere consapevolezza e coscienza che senza la protesta, senza una forte voglia di fare valere le nostre ragioni, probabilmente tutto rimarrà sempre qualcosa di intermittente che non porterà a conclusione. Del neonato comitato per il patrimonio termale fanno parte la rete che comprende Tribunale per i diritti del malato, Cittadinanza Attiva e Procuratori dei Cittadini ed il gruppo scout a Gesci Sciacca 2. Comitato civico per il patrimonio termale di Sciacca, questo cosa significa? Sì, volutamente non lo abbiamo voluto denominare Comitato civico per le terme, perché nel nostro immaginario collettivo cittadino le terme sono lo stabilimento, le piscine, l'albergo. Questo comitato nasce con l'idea di una valorizzazione del patrimonio termale di Sciacca, che è qualcosa di molto più grosso. La vetustità di quegli immobili è al limite, la dico in maniera estrema, è fine a se stessa. Quello che interessa la nostra città è riuscire finalmente nella propria storia a valorizzare veramente questo patrimonio come volano di sviluppo turistico termale, come volano di sviluppo economico, come volano soprattutto occupazionale per tanti tanti giovani oggi costretti a emigrare. Vogliamo una città turistica, vogliamo una città turistica termale. L'obiettivo è sempre quello di mobilitare la città per salvaguardare i beni comuni e quale bene comune è più importante delle terme. Le terme sono, diciamo, le cose più importanti che noi dobbiamo difendere, come era l'ospedale, come è l'ospedale, così le terme sono una cosa che il cittadino è una cosa sua e la deve difendere ad oltranza. Quindi penso che l'obiettivo di questo comitato sia lo stesso di quello del comitato sanità di poter riunire tutte le forze sociali senza escludere nessuno e quindi questa unione dei cittadini potrà smuovere quantomeno la politica a fare presto. Alla riunione di ieri sera ha preso parte anche l'ex assessore della giunta di Paola, Ignazio Bivona. Da un lato è un fatto positivo, c'è la società civile che si muove per cercare di dare una spinta, dall'altro lato è un fatto negativo perché vuol dire che la politica non è riuscita a dare quelle risposte che realmente la città si attendeva. Poco fa lei diceva che durante la nostra amministrazione si è verificato questo fatto traumatico, noi abbiamo fatto di tutto allora per cercare di evitare un fatto che noi ritenavamo non giusto per la città di Sciacca, riteniamo che avevamo ragione a dire che quel provvedimento era un provvedimento negativo, dicevamo che questa situazione avrebbe distrutto il patrimonio termale così come effettivamente è stato, oggi è necessario che ci sia un momento di ripartenza, che lo faccia l'amministrazione comunale, che lo faccia il Consiglio comunale, che lo faccia la società civile, tutto è positivo verso un obiettivo che deve essere unico per la città che è quello della riapertura delle terme, che non deve avere un colore politico perché purtroppo nel corso degli anni non si è fatto altro che passerella da parte dei nostri referenti regionali, mi auguro che la spinta dal masso possa servire per dare un segnale alla nostra città. Cambiamo argomento, si sono svolti ieri alla matrice i funerali di Gaetano Lacorte, il disabile ucciso lunedì scorso è ritrovato cadavere sul letto della sua stanza della comunità alloggio Mondi Vitali a Ribera, resta in carcere intanto Salvatore Italiano e il suo avvocato invoca l'infermità mentale, il servizio di Massimo D'Antonio. Rimane rinchiuso in una cella del carcere Petrusa di Egrigento Salvatore Italiano, il 62enne riberese arrestato dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta scaturita dall'omicidio di Gaetano Lacorte, il disabile psichico ucciso lunedì scorso trovato morto sul letto della sua stanza della comunità alloggio Mondi Vitali di Cortile Genova a Ribera. Dopo avere confessato ai carabinieri nel successivo interrogatorio di garanzia davanti al GP, italiano ha preferito valersi della facoltà di non rispondere, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca Antonino Cucinella in ogni caso ha accolto la richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Roberta Griffo di convalidare l'arresto dell'uomo riservandosi al contempo di prendere una decisione in merito alla contestuale istanza presentata dal legale di italiano l'avvocato Giovanni Di Caro, il quale considera necessaria una perizia per accertare le capacità di intendere e di volere del suo assistito, anche egli come noto ospite da tempo della comunità alloggio. La corte è stato rinvenuto morto dagli operatori del centro che hanno subito allertato i carabinieri ritenendo che ci fosse qualche elemento anomalo che escludesse la morte naturale, anomalie poi confermate dai militari e dallo stesso medico legale i quali hanno rinvenuto alcuni lividi sul volto e sul collo della vittima. Si è poi appurato che Gaetano sarebbe stato soffocato, la morte risaliva alla notte precedente, si erano così perdute le tracce di Salvatore Italiano su cui si sono dunque rivolti i primi sospetti, le ricerche immediate in lungo e largo sul territorio riberese hanno permesso di individuarlo nei pressi di una stazione di carburanti. La procura della Repubblica di Sciac, come si sa, ha disposto all'autopsia sul cadavere di Gaetano La Corte, autopsia che è stata regolarmente effettuata, i risultati non sono pubblici, il medico legale li notificherà alla procura nei prossimi giorni, il cadavere dell'ex barbiere è stato poi riconsegnato ai familiari e ieri presso la chiesa madre si sono tenuti i funerali di Gaetano La Corte. Ad ufficiarli è stato l'arciprete Don Giuseppe Maniscalco, una vicenda triste e drammatica sia per la vittima sia per lo stesso responsabile di questo omicidio. Stando a quanto aveva dichiarato durante l'interrogatorio a cui era stato sottoposto nelle ore immediatamente successive ai fatti, Italiano avrebbe agito nell'ambito di dissidi precedenti tra i due, un'inchiesta lampo in una settimana, quella che si conclude domenica che si era aperta con una tragedia a del poco assurda. È iniziata la rincorsa per arrivare primi in Italia viva, il nuovo soggetto politico messo su da Matteo Renzi, il più solerte è stato ancora una volta Nuccio Cusumano, tra gli amministratori c'è chi ci starebbe pensando e tra questi il sindaco di Libera Carmelo Pace. Vediamo il servizio di Massimo D'Antonio. È iniziata e non poteva essere altrimenti la rincorsa a salire sul carro non si sa se è quanto vincitore di Matteo Renzi. Uno di quelli che hanno già fatto sapere che intende rappresentare tale aviva, questo è il nome dato dell'ex premier al suo soggetto politico, è stato Nuccio Cusumano. Lo ha fatto al Corriere di Sciacca di Filippo Cardinale. Questo significa che dunque, almeno a livello locale da oggi, i componenti del gruppo politico dell'ormai ex leader di Sciacca Democratica, dagli assessori Carmelo Brunetto a Cologero Segreto, da Giuseppe Ambrogio a Santo Ruffo, passando per Gianluca Guardino, si accingono a diventare ufficialmente rappresentanti nell'amministrazione valente del nuovo partito renziano. Partito, quello di Italia Viva che rischia di essere un pullman pieno di gente, con pochissimi posti a sedere, a guidare il bus. In Sicilia dovrebbe essere ancora una volta lui, Davide Faraone. Ma sono tanti e tali i nomi di punte interessati a far parte di questo progetto, a partire da quello di Salvatore Cardinale, che trovarci posti a sedere rischia di essere un'impresa. Ci si domanda anche se quali amministratori o ex tali possono ambire ad un ruolo. Inevitabilmente si pensa a Filippo Bellanca, ma anche a Giochino Settecasi, che potrebbero ripartire da qui. I due al momento preferiscono non rilasciare alcun commento, ma va detto anche che è difficile immaginare una possibile coabitazione Bellanca-Cusumano. Vedremo. Ma intanto ci sono amministratori in carica che guardano con simpatia a quest'operazione, non escludendo che tra loro possa esserci Francesca Valenti. Pare assai più concreta la possibilità che ad aderire ad Italia Viva possa essere il sindaco di Ribera, Carmelo Pace, il quale, giunto agli sgoccioli della sua sindacatura, ma con l'obiettivo tutt'altro che secondario, con la scelta di un nuovo candidato, di provare comunque pur sempre ad incidere in uno scenario che garantisca una sorta di continuità amministrativa, ha tutto il diritto di cominciare a ragionare su eventuali nuovi scenari futuri. La politica dunque si conferma una malattia per tante persone. L'unica adesione al momento certa, quella di Cusumano, si conferma come una sorta di simbolo di questa malattia, che si inquadra in una fase storica in cui l'ex sottosegretario continua a puntare piedi nei confronti di un assetto amministrativo, parliamo dell'amministrazione Valenti, che lo vede tra gli insoddisfatti, con messaggi critici per non dire polemici, che più riprese vengono indirizzati ad un'attività politica dove la metafora preferita da Cusumano, quella del cambio di passo, evidentemente dal suo punto di vista, e dire che dispone di due assessori, non ha ancora visto l'attesa concretizzazione. Tutto questo si inquadra anche nell'attesa ormai imminente nomina di Mario Turturici, ed assessore dell'amministrazione Valenti, su iniziativa, come si sa, di Alberto Sabella. Nomina su cui il senatore Cusumano sembra avere delle riserve, ma la priorità al momento è il bilancio di previsione che richiede equilibrio interno. Quell'equilibrio interno assolutamente indispensabile, soprattutto se si vuole chiedere senso di responsabilità all'opposizione. Problemi alla pubblica illuminazione, a segnalarli alla nostra redazione alcuni residenti delle periferie. In particolare viene denunciata la pericolosità in cui versa l'incoroccio extraurbano tra la via Gezi e la statale 115. I pali dell'illuminazione pubblica non funzionerebbero, denunciano alcuni cittadini da almeno tre mesi. Due, nello specifico quelli guasti, propri due collocati all'incrocio con la statale. Fatto questo che complica la visibilità nelle ore notturne per le numerose automobili e ciclomotori in transito nella popolatissima periferia. È sempre in periferia, in via dei Papiri, incontrata Isabella al Buia e anche quest'altra alteria, con due pali della pubblica illuminazione anche lì. Guasto che va avanti da alcune settimane e che in una strada già disseminata di buche e perdite idriche complica ulteriormente la sicurezza di chi vi transita. Scarsa partecipazione ieri pomeriggio all'incontro svoltosi a lati di Agrigento e finalizzato ad approfondire le due ipotesi di modello gestionale del servizio idrico integrato. La scelta tra SPA è azienda speciale consortile che è all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Sindaci in programma venerdì 27 settembre. Ma il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, sembra orientata ad un passaggio preliminare in Consiglio Comunale per una decisione sull'uno o sull'altra ipotesi che sia la più condivisa possibile. Sentiamo. Non la partecipazione che ci si aspettava. L'incontro di ieri pomeriggio nella sede dell'Assemblea territoriale idrica di Agrigento ha registrato tante assenze di sindaci, di consiglieri, di associazioni e movimenti. Riunione preseduta ovviamente dal presidente dell'ATI e sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, alla quale hanno preso parte il presidente del Consiglio Comunale Pasquale Montalbano e il presidente del Centro Studi dei Gasperi, Stefano Scaduto. L'obiettivo era quello di approfondire ulteriormente le due ipotesi di modello gestionale del servizio idrico integrato in provincia, ossia SPA e azienda speciale consortile e a tale scopo era stato richiesto l'intervento del docente universitario Calcedonio Lipomi. La scelta, dichiarato ieri pomeriggio Stefano Scaduto, è politica, rappresentando la preoccupazione in ordine a quello che ha definito il rischio di un futuro ingresso dei privati con l'eventuale decisione della società per azioni, seppur a capitale pubblico. Saranno i sindaci dell'Ate a scegliere in realtà tra SPA e azienda consortile, il punto è all'ordine del giorno dell'assemblea già convocata per venerdì prossimo, 27 settembre. Saranno loro, con il loro voto, a determinare il modello societario che gestirà pubblicamente il servizio idrico integrato. Una scelta che peserà in futuro e che sta portando al sindaco di Sciacca la consapevolezza che è necessaria la massima condivisione. Non tutti i sindaci lo faranno, probabilmente visti anche i tempi ristretti, ma Francesca Valenti è orientata a rappresentare con il voto in assemblea la posizione della città di Sciacca. Si sta valutando se effettuare una seduta di consiglio comunale o una riunione del coordinamento idrico a suo tempo costituito, del quale fanno parte consiglieri e rappresentanti di associazioni e comitati. È indubbiamente anche un modo per tutelarsi da eventuali critiche in futuro rispetto ad una decisione che, come ha ribadito Francesca Valenti in più occasioni, le fa avere dei dubbi sull'azienda consortile, sponsorizzata da associazioni, movimenti e cittadini da alcuni consiglieri, così come sulla SPA, seppure ritenuta più semplice e meno farraginosa da gestire. I consigli comunali dell'Agrigentino di fatto saranno chiamati in causa solo quando i sindaci avranno deciso a quale modello societario affidarsi. Nelle aule consigliari arriverà infatti solo lo statuto della SPA, se questa sarà la scelta dell'ATI o al contrario dell'azienda speciale consortile. Assemblea dell'ATI che potrebbe non essere nelle condizioni, poi venerdì prossimo di deliberare sul punto, non è una scelta semplice, lo abbiamo evidenziato e peraltro c'è un altro nodo che alcuni sindaci ritengono sia indispensabile sciogliere, ossia la questione dei comuni cosiddetti dissidenti. Non è concepibile, è stato detto, che i sindaci dei comuni che vogliono continuare a gestire direttamente l'acqua partecipino all'Assemblea, votando e incidendo sulla scelta della società che dovrà gestire il servizio idrico integrato nel resto della provincia. Su 16 comuni richiedenti, secondo quanto accertato dagli uffici dell'ATI, sono 8 quelli che avrebbero i requisiti per continuare la gestione autonoma. Sono, come abbiamo evidenziato già nei giorni scorsi, i comuni di Cammarata, Santo Stefano Quisquina, Bivona, Alessandria della Rocca, Cianciana, Burgio, Menfi e Santa Margherita, Bedice. Requisiti che l'Assemblea dell'ATI è chiamata a ratificare sempre nel corso della riunione di venerdì 27 settembre, ma al presidente Francesca Valenti è arrivata in queste ore la richiesta di un incontro preliminare da svolgere probabilmente lunedì prossimo e che registri solo la presenza dei sindaci, dei comuni che a suo tempo consegnarono gli impianti a Giorgenti Acque e che ora proseguiranno con la gestione pubblica. La questione è molto complessa, gli interessi sono diversi e l'eterna diatriba tra comuni consegnatari e comuni dissidenti è sempre in primo piano. Slitta a novembre la risoluzione dei problemi che riguardano il software del tablet delle volanti a coppia. Lo evidenzia il senatore del Movimento 5 Stelle, Rino Marinello, che nelle scorse ore ha raggiunto telefonicamente il dottore Cignini, funzionario del Ministero della Pesca e che da mesi interloquisce con gli armatori e capobarca della marineria di Sciacca. La consegna era prevista per fine mese, ma da quanto riferito dal funzionario spiega il parlamentare, gli informatici stanno riscontrando non poche difficoltà per queste modifiche. Negli scorsi mesi, continua il parlamentare 5 Stelle, avevamo esposto la questione proprio ai funzionari del Ministero che già da luglio stanno lavorando per apportare delle modifiche al software, così da venire incontro alle esigenze manifestate dai pescatori saccensi. Va ricordato, conclude Marinello, che questo tipo di pesca viene effettuata in poche marinerie in Italia e tra queste Sciacca, San Benedetto del Tronto e Ancona. È già attivo da lunedì scorso il servizio di assistenza igienico-fisico per gli alunni diversamente abili che frequentano le scuole dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado del Comune di Ribera. L'assessore alle politiche sociali, Francesco Montalbano, evidenzia inoltre che da mercoledì 22 settembre le famiglie potranno scegliere la cooperativa che fornirà il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni portatori di handicap durante le ore scolastiche. Le figure professionali assicureranno attività e supporto educativo affinché i minori possano raggiungere autonomia e livelli di socializzazione. L'audizione del Sindaco di Palermo oggi in Commissione Antimafia avvia un ciclo di lavoro finalizzato ad indagare la gestione dei rifiuti in Sicilia. Dall'audizione di oggi si conferma il danno procurato alla Sicilia da un sistema di monopolio privato sul ciclo dei rifiuti e dai ritardi nella realizzazione degli impianti pubblici. Così oggi l'On. Claudio Fava, Presidente della Commissione Antimafia dell'Ars. Quello della gestione dei rifiuti nell'isola, aggiunto, sarà uno dei temi di indagine su cui si impegnerà la Commissione Antimafia a partire dalla prossima settimana. Giornate europee del patrimonio anche a Sciacca. La manifestazione si svolgerà domani e domenica all'atrio superiore del Palazzo Municipale con la contestuale apertura al pubblico del fondo antico della Biblioteca Comunale. Ce ne parla in questa intervista l'assessore alla cultura Gisella Bondino. Giornate europee del patrimonio si svolgeranno anche a Sciacca domani e dopo domani e per l'occasione è aperta già in realtà in questi giorni del Festival delle vie dei tesori, ma ci saranno degli eventi nel fondo antico della Biblioteca. Sì, abbiamo aderito a questo evento italiano ed europeo che sono appunto le giornate europee del patrimonio che quest'anno è dedicato al tema 1, 2, 3 arte e intrattenimento prendendo spunto dal patrimonio librario che custodiamo e affidando il compito di riproporre canti, kunti, giochi fanciulleschi a Franco Bruno che ha scritto per l'occasione, adattato per l'occasione un testo insieme ad altri amici del Teatro Oltre. e poi questo sabato alle 21 all'interno dell'Atrio Superiore, mentre domenica alle 19.30 insieme alle antiche serenate notturne, ai bambini, alle voci bianche dell'Accademia Schenè proporremo ancora una carrellata di canti della tradizione e in particolare ritornelli e giochi fanciulleschi. La scelta è ricaduta su questi temi perché l'obiettivo delle giornate europee del patrimonio è quello di porre attenzione rispetto al patrimonio immateriale e quindi questa tradizione che fa parte della nostra cultura rientra a pieno titolo nella tradizione immateriale e quindi ci è sembrato il tema giusto quest'anno per dedicarci anche a questo evento. Il Fondo Antico della Biblioteca è aperto in questi giorni del Festival Le Vie dei Tesori, uno dei siti che è possibile visitare. Che notizie abbiamo per una riapertura tutto l'anno di queste stanze della Biblioteca Comunale? C'è un finanziamento per la Biblioteca Comunale che verrà portato a termine nel più breve tempo possibile e quindi io mi sento abbastanza sicura che le cose si possano risolvere al meglio. Peraltro la problematica riguarda soltanto la Sala Quinta, quindi comunque non è interessata alle visite né lo è stata nei mesi passati né lo è in questa occasione. Il Fondo Antico è in questo momento uno dei luoghi anche più visitati all'interno delle Vie dei Tesori perché abbiamo un patrimonio importantissimo che risale al 1400, quindi che ben venga. Siamo quasi alla fine delle manifestazioni culturali inserite nell'ambito di shock estate. Le chiedo che bilancio già possiamo stilare. È stata un'estate ricca di eventi di varia natura, abbiamo raccolto proposte di vario tipo, abbiamo cercato di assecondare, di tenere conto dei gusti eterogenei di un pubblico locale e dei turisti di passaggio, ma è un bilancio positivo perché siamo riusciti ad aprire diversi luoghi, a fare diverse attività, spettacoli vari, quindi faticoso, impegnativo questo senza dubbio, però è un bilancio positivo. Ci saranno comunque degli altri appuntamenti e poi si programmerà la stagione autunnale-invernata? Dobbiamo avere il tempo un attimo di respirare, però siamo già pronti anche per questo. Sì, ci sono gli ultimi eventi nell'ultima settimana di settembre, oltre alla conclusione delle vie dei tesori avremo anche Shaka Comics, avremo il concerto degli Sharrabah, quindi ancora tanti eventi importanti a cui partecipare. E come anticipato dall'assessore Mondino, lo Shaka Comics previsto per questo weekend è stato spostato per ragioni logistiche e organizzative al prossimo fine settimana. La manifestazione che avrà luogo presso il Museo del Carnevale vedrà la partecipazione di diversi protagonisti che operano nel settore dei fumetti, delle graphic novel, dei giochi da tavolo e della cartapesta. Annunciata dall'assessore Sino Caracappa la presenza di tanti disegnatori, doppiatori e cosplayer che si alterneranno nelle varie attività del programma che sarà reso noto martedì prossimo. Anche il Club Unesco aderisce alle giornate europee del patrimonio e lo farà con alcune iniziative tra domani e domenica e domani l'apertura ad esempio del liceo artistico Bonachia per permettere ai visitatori di conoscere le maioliche e la produzione artistica che conserva la scuola. Domenica è iniziativa al Green Park Buscarnera con l'associazione Nati per leggere. L'intervista a Lorenzo Salvaggio, coordinatore del Club Unesco di Sciacca. Il Club Unesco di Sciacca aderisce alle giornate europee del patrimonio. In che modo? Che cosa sarà visitabile domani? C'è una cosa eccezionale, un'apertura straordinaria del liceo artistico Bonachia. Come tutti noi sappiamo... Un'apertura al pubblico. Un'apertura al pubblico, sì, perché è una scuola, però è una scuola museo, è una scuola di Sciacca bellissima anche perché custodisce delle opere straordinarie per la storia della maiolica, proprio i pannelli fra le altre cose, fra le altre opere del Bonachia. In occasione delle giornate europee del patrimonio, di cui noi per queste iniziative siamo coordinatori locali come Club per l'Unesco, la preside ha subito aderito a questa nostra proposta e domani dalle 9.30 alle 13 sarà possibile visitare queste bellissime opere con una visita guidata da parte della scuola. e sarà possibile anche vedere, accedere ai laboratori della scuola. Questo conferma che Sciacca è una fucina di cultura. Sciacca è una fucina di cultura come potenzialità futura e come straordinario passato da valorizzare per uno sviluppo economico sostenibile. Niente è più sostenibile di condividere l'arte. Infatti lo slogan che abbiamo coniato per questa iniziativa è creiamo bellezza, custodiamo bellezza, condividiamo bellezza. Perché la bellezza è uno dei pochi beni che se condiviso è infinito, non è finito come una torta. E su questo dobbiamo puntare. Intanto domenica organizzate un'altra iniziativa con l'associazione Nati per Leggere al Green Park Buscarnera di Capo San Marco. Sì, questa del Green Park intitolata all'ingegnere Buscarnera è una cosa molto positiva perché sappiamo tutti che era un'area degradata e che adesso è un parco urbano multifunzionale. È aperto a tutti, ci sono tante attività. È aperto dal mercoledì alla domenica tutti i giorni. E domenica in particolare ci sarà la consueta apertura e ci sarà un intervento molto gradito dell'associazione Nati per Leggere che ringrazio e faranno delle letture per i bambini. Anche perché lo slogan delle giornate europee è questo. Uno, due, tre, arte, cultura e divertimento, intrattenimento. E anche avvicinare i bambini alla lettura, al libro, al sapere in maniera gioiosa è una bella attività, una bella iniziativa. Il valore del volontariato si manifesta in maniera concreta. Per esempio c'è un'esperienza che voi tenete molto a valorizzare che è quella di Corleone. Ce la spiega? Anche a Corleone, come in tutta la nostra Sicilia, ci sono delle forze buone, delle forze positive. C'è un sito straordinario che è quello delle cascate delle due rocche. È interessante dal punto di vista fluviale e dal punto di vista archeologico. È stato devastato dall'alluvione dell'anno scorso. Grazie all'assessorato dell'ambiente del comune e grazie soprattutto ai volontari è stato ripulito, ripristinato e riaperto proprio alcuni giorni fa. E domenica sarà aperto in occasione proprio di queste giornate europee del patrimonio dove a Corleone noi siamo per questa iniziativa coordinatori locali. Sciacca come modello al summit delle località balneari italiane con il museo diffuso dei Cinque Sensi. È stato Emilio Casilini, giornalista RAI, inviato di Report a citare l'esperienza del museo diffuso nel corso del G20 delle spiagge italiane. Davanti ai sindaci delle 20 località balneari più frequentate d'Italia da Rimini a Riccione fino a Castiglione della Pescaia e Taormina ha raccontato a Casalini la capacità che sta dimostrando una comunità quella saccense di fare in rete recuperare l'identità del proprio territorio. Per noi è bello, ha commentato Viviana Rizzuto, presidente del Museo diffuso dei Cinque Sensi, che Sciacca fosse lì a portare un esempio concreto di come una comunità può riuscire a fare in rete per valorizzare le grandi risorse del proprio patrimonio storico, artistico e culturale. Teatro torna in scena stasera e domenica presso l'atrio inferiore del Palazzo dei Gesuiti l'associazione culturale Chalot con la nuova commedia in due atti scritta e diretta da Tonino Genuardi, Adoro il mio vicino. Dopo la bugia dello zio Nicola e Silenzio Parlomutu, Chalot torna con un testo in due atti dove l'autore immagina una serie di personaggi come sempre buffi, talvolta goffi, in una piazza del paese dove si affacciano diverse abitazioni, uno scorcio quassiasi di una cittadina qualunque dei giorni nostri dove si intrecciano le vite e le storie di alcuni come sempre singolari personaggi. 12 attori scena per il nuovo debutto di Chalot che si annuncia come sempre divertente. L'appuntamento è stasera e domenica alle 21 presso l'atrio inferiore del Palazzo Comunale. Adesso la Mondadori per il consiglio del libro da leggere. Trascorri anni a immaginare il momento in cui la tua vita cambierà. Quel momento però non arriva. La vita va avanti come sempre, senza sorprese, senza novità, senza grandi emozioni. Ma poi, proprio quando ormai credi che nulla possa cambiare, ecco che succede qualcosa di totalmente inaspettato. E il destino è colpa di Dio, forse dell'universo, o è semplicemente il caso. Dopo anni di calma piatta, ora il mare è in tempesta. Puoi tornare in fretta al porto sicuro che conosci alla perfezione, oppure farti trasportare lontano dalle nuove correnti. Così facendo potresti trovare qualcosa che non riuscivi nemmeno ad immaginare, nei tuoi sogni più sfrenati. Potresti scoprire di non avere mai capito niente su di te e di non avere mai amato davvero. Potresti riacquistare un sorriso che neanche sapevi di avere, quello vero che nasce dal cuore. E un giorno potresti ritrovarti sulla cima di un promontorio a Bali, di fronte all'immensità dell'oceano, felice come non era mai stato nella tua vita. Come una notte a Bali, di Gianluca Gotto, Edito Mondadori. Per lo sport è tutto pronto a Sciacca, presso i campetti di tennis della Perriera, che ospiteranno il torneo di bici-tennis assoluti di quarta categoria, torneo che vedrà la partecipazione dei migliori atleti siciliani della specialità. L'iniziativa è coordinata dalla società Passione Tennis Sciacca, campionati di prestigio, corsi di tennis con istruttori federali e il progetto Racchette di Classe, afferma ai nostri microfoni il presidente Davide Emmi. Sono solo alcune delle iniziative sportive che porteremo avanti nel corso dell'ormai prossima stagione agonistica. Sentiamo. Domani e domenica, presso i campetti della Perriera a Sciacca, appuntamento con il bici-tennis, in particolar modo con gli assoluti di quarta categoria, torneo che vedrà protagonisti i migliori interpreti siciliani della specialità. Ne abbiamo parlato con David Emmi, presidente di Passione Tennis Sciacca, con cui abbiamo fatto anche il punto in vista dell'inizio della nuova stagione agonistica. È un grosso torneo, sono gli assoluti di quarta categoria, quindi ha una caratura regionale e quindi da qui, da Sciacca, uscirà il campione regionale di quarta categoria di bici-tennis. È una bellissima manifestazione, spero che verranno molte persone a vederne perché ci sono campioni da tutta la Sicilia e fino adesso ci sono numerosi iscritti. Per quanto riguarda orari, appuntamento, giochi, incontri, come l'organizzazione? Si inizia sabato mattina con i doppi misti e si termina domenica, sempre la mattina fino al pomeriggio, la sera, con i singolari maschini. Tanto divertimento e tanta qualità. Siamo in pratica ormai alla vigilia dell'inizio della nuova stagione agonistica 2019-2020. Passione Tennis ovviamente riparte, come sempre, con tanti campionati e con diverse squadre. In realtà non ci siamo mai fermati. Quest'estate abbiamo fatto un opening di tennis, abbiamo fatto due tornei di bici-tennis alla LOA. Abbiamo ospitato il Gressa, abbiamo ospitato i bambini nella struttura, quindi in realtà non ci siamo mai fermati. Ma adesso inizia il campionato autunnale e noi siamo in Serie B, quindi è un campionato abbastanza prestigioso. Abbiamo due squadre, una squadra in Serie B e parteciperiamo anche al campionato di Serie D. Inoltre per il prossimo mese abbiamo già previsto un torneo di terza categoria, un altro torneo di bici-tennis e un altro torneo amatoriale di tennis. Quindi l'attività è sempre frenetica, ritmi sostenuti. Tra l'altro riproponiamo il progetto Racchetti di classe, che è andato benissimo l'anno scorso nella scuola Mariano Rossi. E inoltre inizia la scuola tennis, che è il nostro fioro all'occhiello della società. Noi abbiamo numerosi bambini ed adulti che partecipano quotidianamente ai corsi di tennis. Inizieranno il primo ottobre e per i nuovi atleti c'è la possibilità di fare un corso di 15 giorni gratuitamente di prova per capire se poi lo sport piace. Quindi inizierà tutto l'ultima settimana di settembre, ma ufficialmente il primo ottobre. Abbiamo due maestri federali, perché noi facciamo sia tennis che bici-tennis. E inoltre ci stiamo espandendo, abbiamo anche altri corsi per bambini e anche in paesi limitrofi. Per quanto riguarda, parliamo di numeri tesserati, che numeri siamo arrivati? Siamo in forte crescita. Noi ci siamo insediati da un anno circa. Ad agosto abbiamo fatto un anno di insediamento del nuovo gruppo dirigenziale. e siamo aumentati del 400% di numeri iscritti e soci. Anche il numero dei bambini che frequentano la scuola è triplicato rispetto a prima. Quindi il buon lavoro alla fine ripaga. Siamo in chiusura. Per questa edizione è tutto. Grazie ancora una volta per essere stati con noi. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti.